il silenzio e l'agitazione della diretta di cucito creativo a me non parte la diretta vediamo sì adesso sì adesso sì e quindi clicco ok aspettiamo i commenti giro e vediamo aspettate mi siedo lo sapete che io mi devo sempre sedere poi quando sono agitata ancora di più aspettiamo due o tre commenti sistemiamo due cose e vediamo se se qualcuno arriva perché può anche essere che faccio la diretta da sola perché nessuno oggi vuole vedere e intanto io no la marica la dona ciao ci sono allora lo sapete che io col cucito maria gabriella l'aveva promesso c'è ivana ciao a tutte avete visto come ci vedo da lontano stranamente però oggi non ci vedo da vicino perché io sono così alternata no e allora col cucito creativo non vado tantissimo d'accordo mi piacciono i progetti di cucito creativo ma ho difficoltà a spiegarveli e quando si tratta di giulia quando si tratta di patchwork di misure che per forza devono venire perché la matematica non è un'opinione io mi sento sicura mi sono dimenticata di mettere il campanellino fuori dalla porta quindi può essere che qualcuno entri quando siamo in diretta fa niente oggi va bene tutto invece nei progetti di cucito creativo dal momento che mi sento un po impedita a disegnare ho difficoltà a spiegarvi come creare delle curve come rispettare le curve sulle sulle sui cartamodelli che vi do però io ci provo questo è il cartamodello che riceverete vi prego non ridete questo è il cartamodello che voi riceverete voi dovrete e beh vabbè è questo tutto questo ci serve per fare la presina nient'altro per il resto sarà tutto spiegato allora la teresa è arrivata la loredana la michela ti avevo già quante la marilena mi sono andate in sui commenti quindi c'è una simona che mi fa così con i capelli ricci fortunata te santina caspiterina sono al lavoro ma ti guarderò dopo sì sì lo sapete che io sono contentissima se siete qui in tante ma so che chi non può perché abbiamo tutti degli altri degli altri impegni oltre stare alla mia diretta mi seguite dopo e siete le benvenute in qualsiasi momento anche come come avete visto la settimana scorsa nella nostra prima diretta del non me lo ricordo già più marzo 2019 quindi sono passati un anno e mezzo la prima diretta tutorial allora le dirette ne facevo già tante sceme come come quelle che sto facendo in questi giorni perché dobbiamo tirarci sul morale le dirette tutorial avevo sempre un po di titubanza farle no e invece invece abbiamo cominciato allora che cosa vi serve che dovrete andare a comprare forse in cartoleria forse anzi non è vero perché potete trovarlo anche nelle scatole delle scarpe la carta velina io ho trovato questo che era in un pacco la carta velina allora questa qui non è proprio una carta velina ce l'ho ma non la trovo più strano una carta molto molto leggera molto molto trasparente e adesso vi racconto e vi spiego il perché di queste cose quindi secondo me la lucia mi dice ciao lara lucia tu fai attenzione al postino la chiara anche c'è oggi stava facendo una fila all'asl l'eleonora è arrivata la carlotta che ieri si usava con me perché non mi può seguire sempre non abbiamo fretta un po per volta chi ce la fa segue chi chi in base al tempo non sono capace in base al tempo di ognuno ognuno segue non c'è nessun problema ho trovato il rossetto ma non l'ho messo lo mettiamo via partiamo allora cosa dico nel nel file quindi nella descrizione del procedimento per fare non mi avete chiesto cosa facciamo oggi cosa facciamo oggi per fare la presina a forma di renna allora che cosa facciamo voi dovete andare a prendere il cartamodello e andare non sarà così ma per esempio il pezzi della renna saranno tutti divisi andare a prendere pezzo per pezzo e ricalcarli guardate per esempio le foglie che sono 1 e 1 2 fatte in questo modo quindi con la carta trasparente la mettete sul foglio e andate a ricalcare esattamente come io vi spiego come faccio io esattamente sulla linea del del cartamodello così per tutti i pezzi che vi verranno bene indicati sul cartamodello allora dal momento che io a mattia la febbre e viva cominciamo con tutti questi bambini malati allora i pallini visto che alla fine dicevo come caspita facciamo a rivoltare questi pallini si può ma non avevo voglia verranno sostituiti e nel kit ci sarà da questo cuoricino di legno nel kit ci sarà secondo me l'agrifoglio fatto così potrebbe anche essere carino quindi che cosa andiamo a fare andiamo a ricalcare tutti i pezzetti io un po adesso partiamo veramente ecco nella diretta perché vi faccio vedere i pezzetti come li ho ricalcati che cosa dobbiamo ancora ricalcare sicuramente mancherà qualcosa mi vedrete correre a prendere pezzi tagliarli così sul momento allora che cosa ho fatto sono andata a fare tutto il contorno sulla carta velina di questa renna tutto quanto ho messo il tessuto diritto contro diritto dietro l'imbottitura e sopra questo foglio come se fosse come vi dicevo questa dell'agrifoglio e ho cominciato adesso lo faremo e ho cominciato a fare tutta una cucitura un po più fitta del solito proprio sulla linea della matita con la carta un po più larga poi vi spiego il perché per fare questo noi abbiamo bisogno prima di fare le corna e poi le corna metterle diritto contro diritto scusate metterle fra le due stoffe questa e questa quindi queste due diritto contro diritto praticamente le corna saranno dentro ma così io poi faccio tutto il contorno quando rivolto il tutto le corna vengono su un'altra particolarità che carina mi piace la renna un'altra particolarità a parte le corna che diritto contro diritto faccio qui avanti e indietro faccio tutto il giro e quindi qui il pezzo è aperto aspettate che velocemente vedete questo pezzo è il l'apertura del del cornino tutti gli altri pezzi vanno cuciti tutto intorno e vanno rivoltati da un piccolo taglio in questo modo perché vanno rivoltati in questo modo perché noi giriamo il tutto il lavoro non abbiamo attraverso questo taglio non abbiamo bisogno assolutamente di andare a ripristinare con una cucitura nascosta questa questo lato il lato il lato di solito dico quello un po più facile da cucire ma dal momento che ho già perso la renna dal momento che vedete che poi la renna è tutta appoggiata non avremo poi nessuna cucitura a vista ma saranno tutte tutte nascoste dal supporto quindi qui c'è il taglio naturalmente voi potete chiuderlo è poco poco a mano sedate retta a me perché poi vi siete obbligate a mettere la renna praticamente così perché il taglio l'ho fatto troppo basso fatelo qui nel senso che tanto qualsiasi posto che non sia troppo in alto sulla testa ma qualsiasi posto vi permette di coprire il il taglio poi con la presina in se stessa a questo punto allora poi coda e naso anche questo vedete che il naso è tagliato tanto poi verrà messo così la coda è tagliata qui perché poi questa coda andrà appoggiata qui è tutto fuori ma la coda andrà appoggiata e cucita nella parte dove c'è il buchino partiamo ci sono domande io non vedo ma ciao cara la monica una volta mi dicevi ciao tesoro però è allora andiamo a cominciare il lavoro diritto contro diritto la parte pelosa l'ho utilizzata come diritto le foglie sono le uniche parti che noi facciamo rivoltate ma che non hanno il l'imbottitura sotto perché tanto abbiamo già tutto di cicciotto non serviva imbottire anche queste di giro e andiamo allora aspettate che vediamo se siete abbastanza vicine vi dicevo io mantengo una cucitura centrale aspettate che vedo di non fare stupidate mantengo una cucitura centrale e diciamo che il punto lo faccio di un di un millimetro e mezzo perché alla fine noi abbiamo bisogno di il punto corto ci permette di fare delle curve non abbiamo bisogno di fare degli avanti indietro perché assolutamente come vi dicevo anche queste foglie le facciamo praticamente tutte tutte chiuse logicamente se andate in fretta riuscite a fare delle curve io adesso logicamente ieri andavo in fretta adesso sono un po' agitata mi sembra di essere impedita quindi vado un po' piano per fare la curva fate due o tre punti aspettate che lo spillo mi dà fastidio per fare la curva fate due o tre punti e poi la maria grazia benvenuta e poi girate vedete due o tre punti e fate la curva io nel frattempo voglio vedere se sono in inquadratura perché mi fa sempre riesco vedete io cerco di andare il più possibile sulla linea del pennarello non è obbligatorio al 100% se sbagliate non succede niente deve essere più o meno sulla linea del pennarello non fate come me le prime volte che se non ero più che perfetta rifacevo tutto buttato via chilometri di stoffa poi ho capito che non era quella la priorità in pratica noi dobbiamo riprodurre la stessa forma e come mi insegnate sempre non è che dobbiamo fare tutto con lo stampino voi siete in 100 magari in 100 che comprate il mio kit ci saranno 100 foglie fatte diversamente allora io preferisco quando vado a fare visto che sono molto vabbè qui non sormonto faccio una faccio un appunto di fermatura visto che sono poco brava a fare questi lavori preferisco tenere stoffa molto più larga di quello che mi serve e anche carta molto più larga di quello che mi serve perché in questo modo adesso cerco di fare il più in fretta possibile così vi faccio vedere in questo modo la carta visto che comunque è una carta molto leggera si strappa da sola ho usato un filo in contrasto sto usando un marrone scuro quindi sul nero riesco abbastanza a vedere la mia cucitura quindi andrò a tagliare riferendomi alla mia cucitura ma adesso lo sapete che l'inquadratura perfetta l'inquadratura ok pensavo mi fosse già scappata l'inquadratura capita ma capita purtroppo molto spesso allora adesso in inquadratura cerco di farvi vedere questa cosa aspetta anzi porca miseria mi devo girare perché devo spostare perché sapete che io poi sono sempre un po' devo sempre ecco devo sempre guardare il tablet e intanto vedere le mie mani allora io praticamente vedete che facendo questo lavoro vado a sto anche tremando è come se fosse la mia prima diretta allora vado a vedete strappare sia questo che questo non ho la difficoltà di stoffa tagliata proprio poco poco a filo non taglio mai la sagoma prima la taglio sempre dopo e quanto taglio vado a tagliare di 3 mm 2 mm logicamente noi ecco qui fate solo un po' d'attenzione io avrei bisogno di accendere un'altra luce ma quella che non ci dà fastidio non si accende va beh allora io non ho bisogno di andare a se io faccio in questo modo non devo andare a controllare mentre lavoro che non mi scappi il sotto e a questo punto spero di essere bene in quadratura vado a fare questo giro vedete in questo modo ecco qua faccio incredibilmente sto tremando ragazze imbranata che sono ok poi anche concentrata come se non avessi mai tagliato nella mia vita poi che cosa dobbiamo fare per evitare che il tessuto quando noi lo giriamo tiri dobbiamo con coraggio andare a fare qualche taglietto sempre sperando vabbè io adesso lo sto facendo a memoria senza vedere perché voi credete mica che da qui a lì io vedo la linea della cucitura ma figuriamoci non vedo niente però vabbè vedete io poco poco ho tagliato poi effettivamente questa foglia una volta che noi l'abbiamo rigirata se la mettiamo così o se la mettiamo così non succede niente quando voi avete un verso tipo il nasino che ne so del del cagnolino il nasino del topolino che deve essere per forza girato verso destra voi mettete il naso così come deve essere fatto sul vostro cartamodello girato verso destra quindi così e tagliate quello che voi vedete perché perché di conseguenza quando voi rivoltate lo rivolterete e rimarrà nella vostra stessa posizione ripeto qui non serve così tanto perché la foglia insomma vi ho detto di essere molto libere anche nella cucitura ho tagliato rischiando ma solo non ci siete solo una parte vedete questa questo questo lato è rimasto intero cannuccia vado sulle punte spingo e anzi vi faccio vedere perché sono più comoda io sperando di essere in inquadratura e lavoro meglio allora cannuccia spingo mi metto sulla pancia e vedete che ecco qui giro a mano a mano sempre facendo piano perché comunque questo no qui serve ancora la cannuccia cannuccia dentro spingo senza spingere troppo perché se no buchiamo il tessuto poi piano 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 vedete che comunque questa fogliolina è anche ecco poi buchiamo il tessuto vabbè ma noi non è successo niente non vi siete accorti di niente quindi piano 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 andiamo a fare di nuovo tutti i nostri giri per cercare di aprire il più possibile queste foglie eccole qui vedete ecco qui forse si può aprire di più poi cominciate a fare questo lavoro di così arrotolare l'interno del del tessuto quello che abbiamo lasciato dentro perché facendolo su a tubicino diciamo a rotolino rafforza le cuciture in modo che qui c'è qualche cosa da ancora aprire eccola qui la punta rafforza le cuciture questa e l'altra che adesso andremo a tagliare però mi lasciate tagliarla così che faccio un po' prima e rischio meno di fare buchi e adesso sì che ci vedo è mi spiace vedete un po' meno voi però dai la figuraccia di farla prima a memoria l'ho fatta adesso questa cerchiamo di farla un po' meglio quindi così poi lara metti sugli occhiali no non ci vedi niente mettili sugli occhiali ma poi sto male e allora riferisco andare a memoria allora abbiamo girato il tutto abbiamo tagliato bene tutto vado a tagliare un po' ho tagliato probabilmente la cucitura ma vado a fare due tagli così e così per evitare che questa stoffa quando viene girata tiri troppo vado a fare il taglio o qui o qui in questo modo non so se sono in se sono in inquadratura vedete così quindi il taglio è stato fatto cannuccia dentro spingo ed esco non so se nemmeno se sono in inquadratura in questo modo poi vado ad aprire bene 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 tutto di nuovo cannuccia dentro spingo dove c'è l'angolo e giro e logicamente più il pezzo è piccolo più dovete avere un po' più di attenzioni piano 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 allora potete utilizzare o questo bastoncino o magari anche quello di legno franca te lo dico subito la dolo adesso franca ti faccio vedere facciamo la presina che si chiama una renna per amica perché e ora qui bisogna cominciare a pensare alle decorazioni di natale è il periodo più bello dell'anno e così dobbiamo fare dobbiamo renderlo allora eccola qui questa è un'altra foglia qui c'è qualche cosa che deve ancora uscire che con calma poi ognuna di voi dovrà spingere piano 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 ecco con legno è meglio eh si si spinge meno questo ecco è qui che è un lavoro che insomma dovete fare con molta calma con molta precisione più lo fate e più vi viene bello e più vi viene facile farlo guarda franca la presina che poi sarà aspettate così a forma di renna con le corna lunghissime eh abbiate pazienza la fretta la velocità con cui l'ho fatta dobbiamo anche poi eh pensare a come appenderla diciamo che lo sappiamo che noi facciamo tante creazioni di ehm che potrebbero essere delle decorazioni o dei regali che effettivamente eh poi ci dicono ah ma io non la uso è troppo bella speriamo se ci dicono così vuol dire che abbiamo fatto un bel lavoro e che il lavoro è stato apprezzato quindi foglie già perse no le foglie ci sono la coda c'è la renna c'è eh le corna ci sono ci manca il musone della renna stessa cosa sono andata con la carta velina ho fatto questo contorno adesso andremo a cucire sul contorno ma eh abbiamo messo il tessuto diritto contro diritto e sotto c'è l'imbottitura vi giro e andiamo aspettate che intanto mi sono sistemata vi giro e andiamo in questo modo guardate facciamola così guardate che bella che sta in dietro allora sembra fatta apposta allora eh cucitura sulla linea del pennarello eh un po' fitta perché comunque abbiamo bisogno di eh di rendere questa cucitura il più resistente possibile vedete che se voi andate eh veloci veloci eh la curva vi viene mh decisamente senza dover fermarvi ecco qui ho sormontato perché perché vi dicevo prima non abbiamo adesso vi giro così però la guerrina è arrivata benvenuta ciao allora eh abbiamo non abbiamo fatto un'apertura perché perché adesso andiamo buttiamo per terra tanto la donna delle pulizie sono sempre io quindi in questo modo vedete che la cucitura fitta vi permette anche di strappare abbastanza bene se la strappate così la tenete anche come carta modello lo mettete nelle vostre scatole con scritto naso renna allora io lo dico poi non lo faccio allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo fare tutto il giro con una forbice quindi tagliamo tutto intorno diciamo che qui possiamo anche andare un po' in abbondanza tre millimetri vanno bene generalmente io non taglio mai perché comunque mi piace avere se la curva è concava invece di convesse è giusto potrebbe anche essere il contrario effettivamente qui quando noi giriamo il tessuto non tira è vero che fa un po' ciccio ma effettivamente ci serve che faccia ciccio e preferisco visto che mi conosco non andare a tagliuzzare per alleggerire anche perché poi andrei a tagliuzzare la cucitura come avete visto che è successo anche qui il naso il muso della renna o così o così non ci interessa più di tanto quindi imbottitura ovunque quindi vado a prendere con coraggio uno solo e dobbiamo eccolo qui se voi fate così vi rendete conto che avete un solo pezzo di tessuto meglio se non tagliate via la fetta ma un pezzetto solo di adesso vi faccio tutte le raccomandazioni e poi buco yes a posto quindi fate un taglio solo sul sopra effettivamente qui non ci servono neanche mille attrezzini ma giriamo vedete in questo modo e il muso della renna è pronto il taglio sarà nascosto sotto alle nostre cuciture quindi non abbiamo particolari precauzioni da prendere facciamo sempre il nostro giro il più possibile aprendo la cucitura logicamente stirate vedete in questo modo così ecco qui e questo sarà il musetto della renna qui c'è il taglio lo mettiamo così e qui ci andrà il naso eccola qui la renna vi ricordo le corna vanno messe diritto contro diritto dentro nelle due stoffe del muso della renna fra il diritto contro diritto di queste due stoffe girate in giù con il beccuccio che esce e che quindi deve andare preso dentro nella cucitura coda dobbiamo andare a creare adesso il nostro supporto qui per piacere si cuce con un sottopunto a mano non facciamo brutti segni con la macchina neanche col filo trasparente a mano ci mettete veramente un quarto d'ora anche perché probabilmente tutto tutto no a mano ma un pezzettino lo faremo noi oggi quindi ce la ce la possiamo fare il cartamodello che voi trovate è anche un cartamodello fatto così quindi voi trovate questo vi create un cartamodello di questo genere anzi due così vi ricordo sempre un pezzo di carta velina con il segno questo è come è successo per il naso è il pezzo da cui ho ricavato la cucitura perché io un pezzo l'ho già cucito adesso andremo a cucire l'altro ma con questo foglio abbiamo bisogno anche di fare un pezzo grande il doppio qui c'è scritto doppio questa è la linea di divisione perché perché il lato inferiore è questo quindi noi abbiamo bisogno un lato così un lato così che è questo e l'altro e poi abbiamo bisogno assolutamente anche il retro che è tutto unico allora pezzo facile rovescio imbottitura rovescio guardate rovescio imbottitura rovescio imbottitura termica quella che tiene un po' il caldo e un po' il freddo perché ha queste pagliuzze metalliche è fatta apposta dobbiamo creare il nostro pezzo ci sono delle domande nel frattempo oggi proprio non vi ho dato retta ma sono talmente concentrata perché ho paura di perdere i aiuto i messaggi ti guardo dopo se no mi finisce la batteria del telefono Angela a dopo allora ho paura di perdere i passaggi quindi sono tutta concentrata e non vi ho guardato dobbiamo già creare il nostro pezzo così come sarà finito vi ricordate quando facciamo i runner il runner diritto l'imbottitura e il retro praticamente rovescio contro rovescio esattamente la stessa cosa questo sarà una parte bella questa sarà una parte bella dentro c'è l'imbottitura adesso vi giro imbottitura normale si può usare si può usare ma sarà però non una sei troppo chiara nessuna domanda da fare fior di lavanda sarà comunque una presina da non usare con le pentole che bruciano sarà una presina di come si dice di figura se voi gli mettete dentro l'imbottitura termica voi potete usare anche la la presina la presina per le pentole allora giro del del ce la faccio eh segno del pennarello come da carta modello questa questa imbottitura questo carta modello l'ho tagliato a filo potevate anche tagliarlo lasciarlo intero e cucire sulla linea del pennarello qui vado a cucire vicino al mio ehm al mio punto di ehm del pennarello con questa volta se sono capace una cucitura molto larga è come se ci fosse solo un'imbastitura non deve tenere niente cioè deve tenere uniti i tre strati questa ehm questa cucitura non deve non dobbiamo rivoltare niente non deve assolutamente fare nessun altro tipo di figura anche perché poi andremo a fare anche uno zigzag qui sopra quindi i tre strati saranno unitissimi in questo modo e in questo modo non mi ricordo da dove sono partita però ah sono già sono andata sono già andata a sormontare credo aspettate che andiamo a vedere sì allora togliamo togliamo il tutto e cosa allora io Milagros non so che cosa mi stai chiedendo ma poi guarderò il video dove ci sarà la traduzione dalle mie parti non si trova l'imbastitura che usi tu allora vi 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 dico comunque che io ho preparato questo kit posso spedirlo e posso aspettate che intanto mi concentro e faccio un'altra cosa e posso mettervi un po' di più di questa imbottitura anche per le classiche presine sulla linea della cucitura precedente vado a fare anche uno zigzag vedete che veloce anche questo molto 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 largo non ho bisogno assolutamente di di fare uno zigzag accurato è solo perché voglio di nuovo mantenere uniti i tre strati questa cosa qui potrebbe essere soggetta a una a un aggiustamento diciamo adesso vi spiego il perché perché stessa cosa e continuo a cambiare cambiare cosa della macchina così così e un po' più larga perché la stessa cosa dobbiamo farlo in questo modo così rovescio imbottitura rovescio questo è il cartamodello quello che vi dicevo partendo da uno e due e quindi avendo questa linea sul doppio dobbiamo fare esattamente tutto quello che abbiamo fatto per gli altri due pezzetti quindi magari Lara se ti ricordi bene da dove parti vado a fare tutta la cucitura intorno e poi vado a fare anche la mia linea con tutto uno zigzag mi è venuto in mente che io non l'ho fatto effettivamente si tratta di pezzi piccoli però qualcuna di voi può anche sentirne una necessità questi tre strati potete andare a unirli con la colla temporanea quindi se voi spruzzate su questi tre strati un po' di tutto cade un po' di colla è un po' più facile dovete poi mettere gli spilli solo per tenere la carta a tutto questo supporto ma effettivamente tutto il supporto non si staccherà mai perché temporaneamente con l'imbottitura con la colla per l'imbottitura è fissato allora togliamo gli spilli aspettate che cerchiamo di fare un lavoro veloce senza andare a bucarmi in questo modo tolgo la carta vedete che si vede la linea del scusate si vede la linea della cucitura e quindi vado a sistemarmi il mio punto di zigzag e faccio di nuovo tutto il giro non è che è una cosa indispensabile ma mi dà un po' più di sicurezza adesso questo non ho neanche cambiato le impostazioni andremo un po' più lente però allora che cosa ci serve questo ci serve che se per caso quando io vado a tagliare per poca dimestichezza o per fretta o per distrazione vado a tagliare sulla linea non ho particolari problemi perché poi effettivamente la mia il mio zigzag mi aiuta a frenare un po' di più quindi da una parte e dall'altra tutti questi punti che si ripetono cioè devo proprio andare a disfarli per perdere tutto il lavoro che ho fatto quindi effettivamente è un po' un aiuto io non lo vedo più lo zigzag ci siamo abbiamo ancora una mezza curva ed eccoci qua e andiamo in questo modo adesso vi giro vi sposto perché dobbiamo andare veramente a tagliare e quindi quello che vi dicevo aspettate vi giro vi dicevo dobbiamo tagliare con un po' più di attenzione e come facciamo aspettate che io vado sotto il tablet perché qui non posso sbagliare tagliamo in questo modo vedete proprio a filo dello zigzag ricordatevi che effettivamente se per caso sbagliate qualcosa non succede niente perché comunque abbiamo praticamente tre linee di cucitura la punta del primo zigzag la punta del secondo zigzag e all'interno forse non ho spiegato bene ma io ho fatto la cucitura in questo modo così è la mia cucitura e lo zigzag gli è andato sopra quindi abbiamo tagliamo qui c'è rimasto tutta questa cucitura e questa quindi effettivamente il fatto di rovinare questo punto è praticamente impossibile io adesso per esempio che sono molto attenta perché in diretta sono sempre bravissima sì non ho sbagliato e non ho tagliuzzato nel mio prototipo avevo tagliuzzato ma effettivamente non ho avuto dei problemi è arrivata anche la Sandra benvenuta benvenute a tutte vi ripeto io sono enormemente grata e contentissima quando mi seguite in diretta non riesco né da telefono né da computer a mettere i mi piace a tutti i vostri commenti perché mi si cancellano e effettivamente invece rispondere ciao 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 a tutte non ce la faccio e mi sembra anche non mi sembra di non prestare attenzione ai vostri saluti vi ripeto sono contentissima quando mi salutate però effettivamente ciao 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 non lo facciamo però continuate a salutarmi voi che io sono contentissima allora ho sentito un po' di spessore qui non so che cosa è capitato ma a parte qualche piccolo punto che non ho tagliato io sono arrivata a questo punto e quindi questo poi logicamente andate a vedere qual è lo strato che vi è venuto meglio magari lo strato che non ha delle piegoline per esempio vedete qui insomma basta solo stirarlo e sarà il corpo della nostra presina allora il corpo della nostra presina che dovrà essere sistemato e chiuso da quest'altro pezzetto perché poi vedete che noi lo apriamo e andremo a bloccare queste queste due questi due lati allora l'apertura il taglio del nostro dello spazio dove noi dovremo andare a mettere le mani potete farlo in tanti modi per esempio vedete che in questo io ho fatto una curva vedete praticamente facendo questa curva ho proseguito un po' sia questo che questo e quindi li ho fa vedete e quindi questo tessuto l'ho fatto andare un po' in là diventa però un po' spesso quindi nel cartamodello io vi ho messo questa cosa qui abbastanza piatta allora sto pestando di tutto qui per terra allora che cosa dobbiamo andare a fare beh innanzitutto senza neanche pensarci dobbiamo andare a mettere lo sviecchino lo sviecchino è fatto con tessuto tagliato in svieco e unito in questo modo allora io non so che ore siano noi facciamo in questo modo prima finiamo tutta la presina se vediamo che è un orario decente e posso andare avanti vi faccio vedere anche come unire lo svieco se non facciamo in tempo o vi faccio un mini tutorial velocissimo magari in questo pomeriggio oppure vi metto il link della lezione in cui sono anche andata a spiegarlo molto molto in dettaglio ok facciamo così allora svieco ma chiuso quindi vedete che il tessuto è stato tagliato e unito in svieco ma stirato così e qui è lunghissima questa striscia 14 e 41 non sei sola per pestare probabilmente per far cadere tutto queste cose qui allora piegato come se fosse un binding però la l'accortezza di averlo tagliato in svieco ci permette vedete di riuscire a fare eventuali curve allora ma dobbiamo andare a lavorare su questo lato perché vedete abbiamo bisogno di mettere questa cosa qui che poi molto probabilmente non andremo a cucire perché se no veramente domani siamo ancora qui questo svieco l'ho tagliato di 8 cm allora voi potete anche fare così i pezzetti che io vi faccio che vi metto nel cartamodello potete usarne il totale di questa striscia che servirà poi a unire tutti questi pezzi e magari un pezzettino prima di unirlo farlo magari di 6 cm qui effettivamente vedete che non è così indispensabile però non cambia neanche niente lasciarlo così diciamo che poi lo nascondete sul sotto allora sono andata a tagliare un pezzo di svieco ce n'è non vi preoccupate non lo non lo non lo finite assolutamente sono andata a tagliare un pezzo di svieco appena appena un po' più lungo vedete che tanto poi anche qui dovremo andare a rifarlo allora diritto contro diritto sulla parte diritta quindi e le due parti verso il brutto vedete qui praticamente abbiamo un tessuto il nostro supporto non rifinito un pezzo di svieco un pezzo di svieco lo mettiamo così e facciamo una cucitura questa volta è facile dritta a un quarto di pollice poi vedete che andremo a fare questo lavoro e quindi ricordatevi che se lo svieco è da otto avrete una cucitura piccola qui e quella un po' più lunga all'interno ricordatevi che non dovete non deve succedere aspettate che vi faccio vedere così cioè una cucitura piccola e una storta chiaramente a me succederà così però vi giro e andiamo a cucire allora aspettate che avevo lo zigzag quindi mettiamo la distanza di un quarto di pollice metto il più precisamente possibile così se volete fate un punto di fermatura siete un po' più tranquille quando poi andate a tagliare e andiamo a fare la nostra cucitura a distanza piedino ricordatevi sempre che se stirate il vostro molto bella l'arena poi finisco devo andare a raccogliere le olive che bello guerrina buon lavoro ci sentiamo facci anche una foto poi che bello bravissima io qui sono ok allora vi dicevo se stirate è un lavoro fatto perché noi dobbiamo assolutamente avere la certezza di andare a pizzicare tutti e due gli strati dello sbieco comunque chiamiamolo pure binding vado a stirare apro bene la cucitura e andrò a fare una ribattitura a mano vedete così adesso forse possiamo anche mettere le wonder clip se cuciamo a mano facciamo che facciamo le brave allora vabbè la prossima volta se tu ti preparassi un un ago già infilato visto che poi non ci vedi e non riesci a infilarlo vabbè ok allora adesso vi giro come quando vi faccio vedere i punti di ricamo come quando vi faccio vedere ecco qua mi giro io e facciamo in questo modo quindi ehm asolina sul fondo quindi vedete qui ho l'asolina e tiro in questo modo così tanto non deve tenere dico sempre se fosse il manico di una guardate che vado velocissima e lunghissimi questi punti eh allora fosse il manico di una borsa devo fissare un po' di più l'inizio e logicamente fare dei punti molto ci siete molto più fini adesso veramente lo faccio per fare il più in fretta possibile deve essere una cucitura nascosta cristina adesso e io raccogliere i kiwi mamma mia abbiamo solo contadine in questo gruppo ragazze che bello buon lavoro a tutte non stancatevi troppo allora che cosa fai di bello guarda qui guarda che cosa facciamo di bello una presina a forma di renna perché abbiamo bisogno di cominciare a fare i regali simpatici per le nostre amiche magari le amiche che sono amanti del natale amanti della casa ma che non sanno cucire e quindi secondo me facciamo una bella una bella figura un pensiero logicamente lo sapete che i regali che riguardano l'utilizzo del nostro tempo sono sempre quelli più graditi e e quindi poi se non volete fare una presina dedicata al natale la renna diventa un orsetto diventa un cagnolino diventa un gatto e voi potete fare esattamente lo stesso processo mettendo una testina diversa quindi tutto si può ecco qua io ho finito il mio la mia cucitura aspettate che l'ago lo mettiamo qui sennò poi si confonde con gli spilli praticamente questo è il mio lato diritto dietro che comunque deve essere comunque bello è stato rifinito a mano mi raccomando voi fate un po' più di punti perché io sono andata molto 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 a rilento su queste quindi sarei andata troppo a rilento quindi ho fatto le cose velocissime allora andiamo a sistemare appaiando vedete ho lavorato su questa su questa curva qui va un po' in dentro andremo poi a rifilare e quindi logicamente il nostro punto di riferimento sarà di nuovo la curva sulla sinistra vedete che anche qui io ho la mia curva che poi andrà rifilata se io vado a fissarmi adesso qui sono stata troppo abbondante se io vado a fissarmi con le wonder clip in questo modo io poi vado a lavorare sotto la macchina da cucire e sono un po' più tranquilla perché io ho tutti questi strati formati da aspettate che qui deve essere un po' più su tutti questi strati formati da i tre strati quindi sei pezzi di tessuto tra quattro di tessuto e due di imbottitura che sono fissati con uno zig zag e con una cucitura e quindi assolutamente non scappano adesso andiamo di nuovo a fare una cucitura di imbastitura che ci servirà di nuovo per unire questi strati in modo da andare poi a lavorare sullo sbieco in maniera un po' più agevole mi viene in mente di fare una cosa velocissima allora io qui ho lo sbieco questo è una ma che bella non l'avevo vista prima allora questa è una una variazione sul tema che mi è venuta in mente in questo momento di fare allora prendete un pezzo di sbieco al posto di mantenerlo con la con l'unica stiratura andate a ma certo io stiro sempre col ferro da stir spento guardate vabbè allora andate a fare questo lavoro quindi così e così andiamo a fare una ribattitura così ci siamo formati anche il quel piccolo gancetto che ci serve che poi andrà messo così da qualche parte lo metteremo che ci serve per appendere la presina perché vi ricordate che vi avevo detto che con la fretta di ieri sera non l'avevo fatto andiamo a fare questo lavoro non serve un avanti e indietro delle cose particolari vedete perché in ogni caso è un brutto qui non è non abbiamo rifilato niente e andrà poi all'interno del nostro binding quindi non ci interessa più di tanto facciamo solo una bella cosa andiamo a fare una ribattitura anche dall'altra parte così almeno è un po' più rifinito e insomma mi piace un po' di più ecco qua così almeno la piega anche quando andate a lavare questa 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 presina non va non va non va a darci fastidio allora che cosa facciamo la mettiamo la mettiamo così stesso sistema con cui abbiamo cucito le corna della della renna qui vado a rifilare così stesso sistema con cui abbiamo cucito la renna le corna vanno dentro la mettiamo una qui e una qui vedete in questo modo così cerchiamo di rendere il tutto un po' un po' simmetrico in questo modo quando andremo a fissare il binding loro saranno già fissate da questa prima cucitura che faremo e dalle altre cuciture del binding vi giro e andiamo a fare una imbastitura allora aspettate che facciamo una cosa di questo genere allora ok praticamente io vado a fare la stessa cucitura aspettate che dobbiamo farla lunga perché comunque si tratta di un'imbastitura e togliete piano piano le wonder clip fate attenzione qui perché sapete che noi qui avevamo messo la il pezzettino per per appendere il come si chiama ho aspettato che non gira per appendere la presina quindi i due i due pezzettini dovrebbero essere stati fissati e adesso vado oh no no abbassato vado a fare tutto il giro che attenzione è solo un giro che ci fissa che ci fissa i due strati possiamo farlo storto possiamo insomma state tranquille che il fatto stesso d'aver fatto un spero di di riuscire a spiegarmi bene il fatto stesso di aver tagliato il lo sbieco di 8 centimetri è proprio perché queste cuciture possono anche scapparci un po' non essere così vicine al bordo perché tanto poi il nostro binding coprirà aiuto coprirà il tutto i pezzi sopra erano alla fine risultati un po' più piccolo rispetto al sotto effettivamente è sempre meglio avere questo pezzo di sotto un po' più largo perché adesso andremo a tagliare l'eccedenza che sarà pochissima però siamo già arrivati credo di sì boh non lo so penso di sì andremo a ritagliare magari anche solo con una forbice adesso vi giro vi faccio vedere andremo a ritagliare questa eccedenza vedete praticamente questo pezzo questo piccolo pezzettino qui è in più e quindi andiamo a fare un po' il giro vedete che vedete qui è uno spazio da rifilare piano 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 vado a rifilare il tutto anche se tagliamo qui vedete che io sto tagliando il pezzo dello zig zag perché tanto spero ah sì tanto il pezzo del gancetto è di là perché tanto oramai ho fatto un'altra cucitura non serve più uno zig zag perché oramai abbiamo fissato tutti i pezzi assieme quindi assolutamente a noi non interessa più niente però vedete che la nostra presina è fatta e il gancetto è rimasto dentro che poi ci servirà per appenderla ma dobbiamo rifinirla non possiamo presentarla così come regalo che cosa facciamo prendiamo il nostro binding lo mettiamo qui dove è aperto sul lato brutto aspettate che pensiamo lavoriamo qui dove c'è il taglio perché perché noi andremo a cucire noi andremo ad aprirlo qui dietro ci sarà la ribattitura ma questo lato è quello che non si vede perché è come se fosse l'interno un'altra precisazione un'altra considerazione da fare è se la presina l'appendiamo di qui molto probabilmente qui ci sarà la nostra codina quindi la testa che non ho più la testa della nostra renna verrà messa qui che cosa facciamo andiamo a partire qui mi vedete ho fatto tutto che non ero in inquadratura immagino allora allora se qui c'è non so dove mettermi se qui c'è il nostro gancetto qui andremo a mettere la coda la testa la metteremo qui e di conseguenza su questo lato andremo a iniziare la nostra cucitura perché su questo lato potremo fare un 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 dello dello sbieco non fatta benissimo perché tanto sarà un nascosto quindi qui partiamo da qui ok adesso aspettate la sabrina è arrivata dopo guardo dall'inizio benvenuta anche a te allora io non vedo se siamo in inquadratura credo di sì allora abbiamo detto che qui è l'inizio abbiamo detto che noi abbiamo lavorato su uno sbieco e quindi non abbiamo assolutamente bisogno di fare dei taglietti di fare niente di eccezionale facciamo in questo modo almeno lo sbieco facciamolo che termina bene si sfilaccia sempre meno poi allora devo rimpicciolire il punto perché era lungo ma mantengo la mia distanza del quarto di pollice e faccio tutto tutto il giro vi ricordo questo sbieco così alto serve proprio perché dopo durante la ribattitura io posso andare assolutamente a coprire le cuciture che 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 eventualmente sono rimaste un po' fuori posso poi se adesso che io lavoro vedo qualche peluchetto del mio zigzag toglierlo certo che posso perché tanto oramai i miei tre strati stanno venendo fissati addirittura anche col binding qui non ho stirato bene quindi assolutamente questa cosa qui non si muoverà assolutamente più stiamo comunque lavorando su dei margini molto grandi e quindi assolutamente ci ci si la sicurezza di non avere delle delle degli sfilacciamenti è praticamente totale qui ricordatevi che c'è lo strato dove abbiamo messo anche il gancetto quindi andate un po' più lente vedete che facendo lo sbieco quindi tagliando il tessuto in sbieco gira molto 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 facilmente se non si incastra sotto la sotto l'ago sotto il filo del ferro da stiro vedete che le curve me le fa facilmente siamo arrivati al punto in cui lo sbieco si si sormonta ecco guardate questo è tutto tutto sbieco che avete avanzato e quindi alla fine che si avanza dal kit di nuovo qui vado a piegare poco 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 un angolino giusto perché magari mentre andate poi a lavare la vostra la vostra presina non si sfilacci ancora di più ricordatevi che qui sarà coperto quindi se avete un un sormonto che non vi piace tanto state tranquilli perché verrà coperto franco franco versace devo andare finisco di vederlo dopo certamente mi incanta c'è qualcuno che riesce a spiegare a milagros che non sto capendo quello che mi dice e che dopo con google traduttore proverò a rispondere allora che cosa dobbiamo fare dobbiamo rivoltare il tutto vedete naturalmente il tessuto in sbieco si presta bene e logicamente adesso non andiamo a cucire perché preferisco farlo un po' bene e non con i punti larghi larghi come quelli che abbiamo utilizzato prima però giusto per farvi vedere come finisce il nostro progetto perché facciamo tutto il giro qui lo vedete che il gancetto è rimasto bello cucito all'interno quindi assolutamente non si siete un po' in alto vero quindi assolutamente non si Antonietta ti faccio vedere cosa sto facendo aspetta eh faccio così faccio così ecco qui questa la potete uccitela bene non regalatela con le wonder clip la potrete appendere e qui aspettate che facciamo questo lavoro di un'impalcatura così poi qualche pezzo è qui qualche pezzo è qui naturalmente sicuramente ho perso no forse ho tutto allora vi ricordate qui è la parte di sbieco non fissato bene qui è la parte in cui io assolutamente devo coprire quindi andremo a fare questo lavoro guardate se io metto la parte con il taglietto così e la mia renna che copre questo spazio ma adesso non mettiamo le wonder clip ma mettiamo degli spilli proviamo a vedere se riesco a farvi questa cosa allora logicamente punto nascosto tutto intorno non è così agevole come farlo per esempio su una presina piatta o su un runner su su un tessuto è un po' più difficile perché è un po' più scomodo ma ce la facciamo eh così adesso vi faccio la sorpresa vabbè voi vedrete tutti i gli spilli però magari se il naso glielo giro e glielo metto aiuto non ci sta così sapete perché perché volevo farvi vedere io che sono un incapace nel disegno volevo farvi vedere come disegno gli occhietti attenzione potete ricamarli potete fare delle applicazioni potete disegnarli ci sono tantissimi modi con cui potete lavorare e ragionare con con gli occhietti potete veramente sbizzarrirvi allora aspettate che così almeno vi faccio una sorpresa adesso tiro giro la la renna e voi vedete e poi pitturiamo pitturiamo una parola grossa tentiamo di mettere a posto gli occhietti allora aspettate che vi faccio vedere questa cosa qui voi appenderete la vostra renna che sarà così vabbè se la appendete assolutamente cambiamo forse devo cambiare tutto perché fate la prova prima di fare una scemenza come ho fatto io aspettate perché se voi la appendete così magari io allora innanzitutto non l'ho vista quindi poteva non essere così male averla appesa così e poi voi mi dite come si ritaglia il binding sbieco allora dopo ve lo spiego aspettate che finiamo questa cosa qui e poi vi faccio vedere piuttosto come si taglia il binding in sbieco allora non l'ho fatta benissimo perché qui si vede proprio lo sbieco quindi la renna deve essere spostata un pochettino più di qui però vedete quando noi la appendiamo mi piace un po' di più che non ci sia la renna come probabilmente c'era prima naturalmente prima di cucire imbastite e fate questa prova nel senso che vi mettete attaccato al muro e vedete se vi piace una cosa del genere volevo solo ma perché so che è bello perché volevo solo farvi vedere una cosa ma se non ho portato i pennarelli non vi faccio vedere proprio niente ma aspettate che vediamo se ci li ho perché secondo me addirittura chissà dove li ho già presi secondo me li avevo già anche sistemati chissà dove sì che ci sono allora pennarello idrosolubile quindi quello che va via con l'acqua e voi andate a disegnarvi una palla che fa così e una palla che fa così guardate che la mia capacità di disegno è pari allo zero e tra l'altro non so neanche se siete in inquadratura quindi tanto che ero agitata di fare sto lavoro qui io di solito alle renne faccio la bocca sorridente tanto sorridente quindi da qui a qui così e così nulla vi vieta di ricamare quindi a questo punto voi potete prendere il vostro filo e il vostro ago da ricamo ho detto giusto e andare a ricamare se no andate a prendere un pennarello indelebile e rifate la stessa cosa rifate esattamente lo stesso passaggio addirittura scusate se vi piace quello che avete scritto se non vi piace cancellate aspettate che la vostra renna si si asciughi rifate il tutto con il pennarello azzurro e ripetete il il procedimento vedete che io poi dopo devo stare in silenzio mentre faccio certe cose ecco qua cosa ne dite ha le sopracciglie la renna non lo so però adesso vi faccio vedere un'altra cosa che su quella originale non avevo fatto che silenzio ok qui logicamente potete andare poi a ripassare una sola precauzione dovete avere con questo pennarellino e con i pennarelli indelebili dovete aspettare un paio di giorni a cancellare il segno del pennarello di sotto avete bisogno che il pennarello indelebile si fissi bene 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 al al tessuto perché se no che non è una schifezza poi eh vi fa un una sfumatura che sembra invecchiato ecco se volete ma va che simpatica si può usare il cerchiometro puoi usare quello che vuoi anzi se ci insegni anche a usarlo sarebbe una bellissima cosa secondo me che ne dite se facciamo anche questo lavoro qui abbiamo fatto una renna bellissima è proprio un rudolf e ecco qui che facciamo il giro guardate che tratto che ho veramente ecco qua vabbè qui forse l'ho rovinato un po' andiamo a ripetere la curva anche su questo e insomma più o meno ci siamo che cosa ne dite allora facciamo uno sbieco credo di avere tutto tranne anzi no vi lascio qui ho perso anche questo vi lascio qui perché vado a prendere un pezzetto di tessuto proprio aspettate che prendiamo un tessuto a righe se così almeno faccio un po' prima e non e non devo arrivo eh ci sono ci sono e non devo andare a metterci troppo tempo per tagliare allora per fare ci sono sono arrivata per fare uno sbieco di questo genere io dobbiamo un po' stirarla io è bello perché parlo come se ci fosse qualcuno con me allora vado a le sopracciglia no Angela le sopracciglia ci vogliono io non lo so io non ho questa cosa visiva di sapere ci vogliono le sopracciglia bellissima idea non è che ci dà il modellino sai che non ho capito che cos'è allora ascoltate proviamo a vedere forse forse non lo so se non diventa cattiva con le sopracciglia vabbè non lo so vediamo allora come faccio a fare uno sbieco diciamo che per fare uno sbieco fatto bene nel patchwork bisognerebbe tagliare un pezzo da 40 cm taglio un 12 pollici non è così aiuto in questo progetto di cucito creativo non è così indispensabile avere uno sbieco molto molto lungo dobbiamo stirarlo però aspettate che facciamo questo lavoro che vi sposto un attimo di qui ma devo semplicemente far andare via un po' tutte queste pieghe che sono un po' bruttine il ciuffetto in testa ma siete bravissime voi a fare queste cose vedete che poi alla fine io mi mi perdo un po' su queste cose di cucito creativo perché mi perdo i particolari non ciuffetto in testa è vero ma io avrei dei problemi a disegnare il ciuffetto in testa già per disegnare una renna è da ieri sera che ci sono dietro no dall'altra sera ieri ho cominciato a cucirla ma dall'altra sera che la disegno è veramente prima sembrava un orso poi sembrava un cane allora questo è il mio lato aspettate che facciamo spazio questo è il mio lato di taglio che è stortissimo quindi andiamo a almeno raddrizzare questa parte vedete io praticamente sono andata a prendere come punto di riferimento questo spazio e vado a raddrizzare il mio tessuto da una parte giro completamente e vado a cercare di raddrizzarlo il più possibile anche dall'altra perché perché quando noi andiamo a lavorare e tagliamo in sbieco i due le due estremità devono essere almeno con il tessuto delle corna hai ragione hai ragione potrebbe essere una bellissima idea i due i due angoli che noi tagliamo a 45 gradi devono essere il più perfetti possibile diciamo quindi questa è una fetta questa è la larghezza minima per poter fare uno sbieco decente per non avere tutti i pezzettini così allora o prendo come riferimento questa linea oppure questa le abbiamo squadrate quindi una vale l'altra vado a prendere la squadra che sia questa che sia quella piccola vedete che ha delle linee centrali ce n'è una che si chiama 45 gradi sia sopra che sotto guardate che cosa faccio allineo questa striscia del 45 gradi sul mio taglio quindi sull'ultima squadratura che io ho fatto questo lo sapete non è uno scarto ma non ci serve per lo sbieco una volta che io ho questa linea che ho fatto un angolo di 45 gradi ho bisogno di ripristinare questa che sarà la mia partenza come se fosse una linea di taglio come quando vi dico squadriamo tutto sulla destra e tutto sulla sinistra perché vogliamo avere un un punto di riferimento di misura quindi prendo questo e me lo metto in verticale se volete io per esempio non lo faccio mai ma se volete potete usare il punto di riferimento il riferimento della vostra del vostro piano di taglio vedete a questo punto noi andiamo a tagliare le varie strisce che sono della misura che noi abbiamo bisogno per per fare qualsiasi scusate devo bere perché mi sono strozzata la gola secca abbiamo bisogno la la già faccio eh la misura che abbiamo detto essere di 8 centimetri l'avevo fatto di 8 centimetri facciamola di 3 pollici non cambia 3 pollici e un quarto nel senso che comunque avete visto che si gira agevolmente quindi decidiamo che il nostro sbieco sarà di 3 pollici 1 2 3 vado a prendere come riferimento la linea verticale se voglio esagerare vado a controllare guardate che il mio punto di riferimento vada proprio sulla mia linea del 45 gradi e vado a tagliare una prima fetta questa quindi due fette così servono per i lati del i lati piccoli della nostra presina ma noi abbiamo comunque bisogno uno sbieco un po' più lungo perché guardate che al pelo riesco a tagliare lo stesso senza muovere niente ecco qua che cosa ce ne fa vabbè logicamente questa striscia ne tagliate un po' quante ve ne servono perché noi abbiamo bisogno di tante fette che cosa andiamo a fare in questo modo abbiamo già vedete un'unione di due tessuti vabbè logicamente non andiamo a mantenere le righe assolutamente però in questo modo dobbiamo andare a lavorare diritto contro diritto e fare questa cucitura in modo che poi la mia striscia diventi così guardatela diritto contro diritto ma un po' spostata perché abbiamo bisogno di creare i nostri soliti due angolini che sono ho perso gli sbilli questo e questo ci siete sì che saranno la partenza e l'arrivo della mia cucitura logicamente stiamo tagliando in svieco quindi il tessuto è un po' elastico abbiamo bisogno di fare un po' d'attenzione nella cucitura quindi non prendiamo queste strisce e le strasciniamo e le tiriamo ma piano 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 ci mettiamo alla macchina per cucire allora vi avevo detto questo è il primo punto questo è l'ultimo punto logicamente devo cercare di andare a prendere la mia cucitura il più precisa possibile che guardate sembra probabilmente ho anche un po' l'occhio oramai è di un quarto di pollice perché la mia impostazione a un quarto di pollice mi permette di andare all'inizio alla fine della cucitura nei due punti che vi ho indicato aspettate che andiamo a tagliare il tutto e quando io apro vedete che ho una linea retta sopra una linea retta sotto stiriamo vado a quasi sempre ad aprire la se ce la faccio ad aprire la cucitura e stiro e poi vabbè gli angolini li taglio perché mi darebbero solo fastidio e poi piano 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 questo è un lavoro che meglio lo faccio e più sarò avvantaggiata poi non devo tirare perché si tratta di uno sbieco devo qui viene comodissimo il nostro amido perché mi fissa il tessuto e non lo lascia più avere delle modifiche quindi noi andiamo a bagnare con l'amido e vede poi se magari ok e piano 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 vado a fare la mia cucitura sul sul la mia stiratura sul lato lungo 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 quindi praticamente piego in metà non sono spesso imbranata come oggi ecco qua ecco poi oggi abbiamo utilizzato questo sbieco come binding quindi questo è il nostro trappuntino lo metto così cucio e poi lo ribatto ci sono delle volte in cui questo sbieco abbiamo bisogno di utilizzarlo magari mi viene in mente sul laminato sapete che cos'è il laminato è quella plastichina comodissima e morbidissima da cucire allora facciamo poi se mi viene in mente non ho niente a portata di mano sì dopo vi faccio vedere abbiamo bisogno qualche volta potremo aver bisogno di creare uno sbieco in questo modo perché quando poi utilizzeremo questo laminato questo è il nostro laminato lo metteremo così lui è abbastanza rigido quindi noi sappiamo che più di così non va lo fissiamo lo imbastiamo mettiamo le wonder clip e poi andiamo a ribattere logicamente quando non abbiamo un attrezzino che si chiama sbiecatore quindi è logico che con uno sbiecatore ci creiamo già questo sbieco già cucito in un attimo senza senza andare a fare tutto questo questo cinema di di cuciture logicamente se il pezzettino da fare è corto così possiamo anche andare a stirarlo però volevo se riesco a aprire il nodo volevo farvi vedere ecco questi sono tutti pezzetti fatti in quel modo con quello sbieco praticamente inserendo questo che non è laminato questa è una schifezza inserendo questo lo sbieco sopra e sotto ad uno di questi di questi supporti io riesco a rifinire un pezzo di laminato potrebbe essere anche un pezzo di tessuto magari con dentro della fliselina per fare bustine per attaccare cerniere per ho detto io l'ho persa adesso mi coccolo un po' con i vostri messaggi però intanto vi faccio vedere che effettivamente l'avevo preparata ma non ci si vuole non ci si mette tutto il pomeriggio a cucirla se non siete imbranate come me però ce l'abbiamo fatta dai allora adesso bastano un po' di perfezionamento per la cucitura a mano però per il resto insomma è carina so già chi va allora quindi chi mi fa i complimenti allora non so che ore sono quindi chiedo scusa alle signore se mi sono se se non sto rispondendo ai messaggi siete davvero tante e logicamente voi mi chiedete la diretta del mercoledì chiaramente io dal martedì pomeriggio non esisto più per nessuno certo se lo facessi un po' per tempo avrei magari anche la domenica pomeriggio per fare queste cose ma generalmente l'idea per la diretta mi viene la domenica sera e e quindi insomma vabbè adesso mi sono anche messa comoda domani domani ci vediamo per la diretta sul negozio delle coperte domani mattina alle 10 e mezza poi per piacere condividete questo video così le amanti del Natale vedranno come è facile fare una presina di questo genere e condividete questo video magari anche alle vostre amiche che amano gli oggettini natalizi in modo che poi vi diranno me ne fai una metterò il link al del sito dove c'è il il kit in vendita e basta mettete mi piace condividete sono contenta che mi avete seguito e carina simpatica la renna rossana bella benvenuta rossana non ti avevo visto prima e quindi di giro e guardiamo la renna così com'è e quindi niente vi ho dato l'appuntamento a domani mattina l'appuntamento lo sapete a mercoledì la settimana prossima alle 2 e sabato alle 3 per il gruppo di Stanti Mauniti quindi vi ringrazio condividete vi prego qualcuno mi deve scrivere già fatto già fatto senza che ve lo dica ricordatevi stasera l'ultimo messaggio che mando è una piccola diretta sul gruppo il negozio delle coperte al mattino appena non sempre appena arrivo quando ho fatto le cose più urgenti faccio la storia su Instagram cioè non ne potete più di vedermi però vi devo tenere compagnia e basta grazie poi lo sapete che quando quando sono un po' più tranquilla che il progetto è andato con mille errori ma l'abbiamo fatto io starei qui a chiacchierare ma non posso perché devo andare a caricare questa diretta su Instagram devo andare a caricarla su YouTube canale YouTube se voi cliccate mi piace e vi iscrivete al canale YouTube che si chiama Lara Fanchini voi vedete tutti i video abbastanza diciamo che negli ultimi tempi riesco a caricarli immediatamente su YouTube in modo che sono tutti in sequenza e quindi li vedete tutti senza andare a guardare tutta la tutta la pagina e a cercarli fra tutte le altre cose dei video mi sembra che vi ho detto tutto abbiate pazienza vi prego abbiate pazienza se non vi rispondo subito ho tantissime persone in coda che aspettano disegni calcoli progetti misure arrivo piano piano arrivo dappertutto e mal di testa permettendo e basta vi ringrazio ringrazio tutte le signore guardate che i pacchi sono partiti e quindi insomma dopo la diretta mi metterò a fare gli altri però non abbiamo avuto intoppi e quindi vi giro sulla renna vi saluto vi ringrazio ciao vi giro sulla renna termina e concludi oppure termina e condivido non mi ricordo più bye ciao 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 termina